Cari Mizzardi, sono immensamente orgoglioso di diventare il nuovo allenatore del OGC Miss. So quanto siete appassionati alla vostra terra e al vostro club. In questo mi riconosco molto. Siate certi che metterò tutta la mia energia per rendervi orgogliosi. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Questa è la mia responsabilità, il mio impegno quando diventerò uno di voi. Non vedo l'ora di conoscervi. Ci vediamo presto. Issa nissa.